Siamo al termine di gara 3 con il presidente dell'Aerobasket Roma con Armando Buonamici per commentare questa sede e commentare questa gara che ha visto Rieti vincere 80-70 in una gara comunque equilibratissima, la più equilibrata della sede senz'altro. Presidente? Beh effettivamente è stata una bella partita, loro sono una bella squadra, una bella realtà, hanno un bel pubblico che li sostiene e li accompagna durante pure tutte le trasferte, spero che pure noi come Roma riusciamo a fare questa situazione di pubblico così che devo dire sono veramente contento perché ogni partita adesso ci stanno accompagnando. Comunque per noi non è finita, noi faremo di tutto per arrivare a Forlì, perciò per noi questo è stato un passaggio come è stata la prima giornata, noi andremo avanti e vetteremo tutto, poi se loro sono più forti e lo dimostreranno sul campo ma noi non molliamo di una virgola. Insomma il presidente dell'Aerobasket è giustamente orgoglioso della sua squadra, dei suoi ragazzi? Sì sono veramente orgoglioso perché stanno dando il massimo e poi sono tutti bravi ragazzi, tutti del vivaio, non è inutile che ci ripetiamo, comunque è una bella finale, era la finale che mi sognavo nel senso che una squadra come Riedi che ha un bel pubblico, una bella squadra messa su bene e noi uguali stiamo dando il massimo, però noi volevamo arrivare a Forlì, faremo di tutto per arrivarci e sono convinto di questo. Per arrivare a Forlì prima però bisogna vincere gara 4, speriamo che il pubblico naturalmente anche con l'appello del presidente possa venire ancora più numerosa visto che non ci sono poi concomitanze con altri eventi sportivi. Aspettiamo del pubblico dei grandi occasioni, è un pubblico io spererei da vedere una volta pieno questo palazzetto perché forse ce lo meritiamo anche per tutti i sacrifici che abbiamo fatto e tutto quello che stiamo facendo ma noi veniamo e per noi non è finita qui, noi andiamo avanti, io lo rivedo a tutti.